Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e ragazzi Fortbyte numero 29 si trova nel cottage di Crackshot dello Schiaccianoci. In poche parole ragazzi la casa del nonno di Heidi, come la chiamiamo noi, quella isolata sopra a rampe ghiacciate. Basta semplicemente entrare ragazzi e qua di fianco all'albero troverete esattamente il Fortbyte numero 29. Io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in live! Ciao!